Lunedì 14 maggio 2019 Buongiorno, ben trovati al primo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa, mattino 6 che come sempre si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro, dall'edizione di Pescara per vedere quali sono gli argomenti principali che poi ritroveremo all'interno del giornale, si parla di tasse in questo periodo, ultime ore per il condono, scade infatti domani il termine per presentare la domanda in comune. Poi vedete come ogni lunedì grande spazio allo sport, soprattutto al ciclismo in questo caso perché ieri il Giro d'Italia, la Crovana Rosa è arrivata nella nostra regione, vedete nella foto Simon Yates il britannico vince in maglia rosa sul traguardo di Campo Imperatore, una tappa spettacolare con una presenza davvero impressionante di tifosi che hanno seguito dal vivo l'impresa del ciclista britannico. Oggi giornata di riposo per il Giro d'Italia, ci sarà però una importante cerimonia privata, il ricordo delle vittime della valanga dell'hotel Rigopiano, domani si ripartirà con una nuova tappa e si partirà proprio da penne, dunque una tre giorni importante con il Giro d'Italia nella nostra regione. Poi il calcio, vedete di spalla, trionfo Juve, ecco il settimo scudetto di fila, Allegri record, la Juventus pareggia e conquista il settimo tricolore di fila. E poi il Pescara, perché il Pescara deve ancora conquistare la salvezza, tutto verrà deciso negli ultimi 90 minuti di campionato, dove i biancazzurri giocheranno venerdì sera alle 20.30 allo stadio Penso di Venezia, il nemico e la paura, ora guai a sbagliare. Vediamo altri titoli che riguardano Pescara e provincia, Montesilvano, tragedia in mare, entra in acqua e muore sotto gli occhi dell'amica, malore fatale per un'anziana di 80 anni. E poi Piazza Salotto, il piano per la riqualificazione, si lavora per riqualificare la piazza più importante della città. Da Pescara ci spostiamo a Montesilvano, violenza in via Rimini, il sindaco di Montesilvano Maragno va dal prefetto. Poi in basso, ieri giornata del raduno nazionale degli alpini a Trento, protagonisti, gli alpini abruzzesi, sfilano in 1700 e ricevono anche i complimenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Siamo all'edizione di Chieti del quotidiano Il Centro, cocaina trovata a lista con 50 clienti, svolta nell'inchiesta sullo spaccio di droga nei locali della Movida. E poi a Vasto, telecamere dei privati contro ladri e vandali. E poi a Lanciano, locali con i tavolini, così cambia la terrazza, poi tornando a Chieti in 10.000 al MaltaTac, successo per la città. Allo Sport, una notizia che riguarda il podismo con la vittoria di Antonio Bucci nella classica seconda edizione della Casale in Corsa, gara che si è disputata a Casale in Contrada Memorial, dottore Angelo Serafini. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo, la cronaca. In primo piano molesta bimba di 10 anni arrestato, Montorio Incella, un pakistano, Ascerne, denuncia per atti osceni. E poi a Teramo, le elezioni, si avvicina l'appuntamento elettorale. L'orgoglio di Fratelli d'Italia, Morra e uno di noi, ieri la presentazione del candidato sindaco proprio da parte di Fratelli d'Italia. E poi a Silvia, ancora elezioni, in Scordella si presenta e gli telefona Salvini Giulianova Porto, azienda abruzzese, per la pompa di benzina. E poi il basket, una notizia importante che riguarda Roseto, che batte Napoli. Ora la salvezza è a un passo giovedì sera al Palabarbuto di Napoli. Si giocherà gara a due in caso di vittoria. La formazione di coach di Paolo Antonio sarà salva. Siamo all'edizione di Aquila-Vezano-Sulmona, sempre del centro. Ubriaco si schianta contro la polizia. Vezzano due feriti tra gli agenti nell'incidente, denunciato il conducente. E poi all'Aquila, all'accordo, i sindacati preoccupati sul futuro dopo l'addio di Carrella. Ancora l'Aquila, cinghiale, sfascia auto, risarcisce la regione. Questa è la sentenza stabilita dal Tribunale. E poi a Sulmona, provinciale riaperta, ma si va a 30 all'ora. E poi il calcio di Serie D sull'edizione dell'Aquila del centro. L'Aquila senza scampo, battuta 3-0 a Matelica nella semifinale play-off. Non va meglio all'Avezzano, superato in casa dal Pineto. Dunque finale play-off di Serie D che vedrà di fronte domenica prossima a Matelica, la squadra marchigiana ed il Pineto di Amaolo. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Il giro illumina l'Abruzzo. Simon Yates, primo al traguardo di Campo Imperatore. Grande festa ieri per il ciclismo, ma soprattutto per la nostra regione. Vedete lo spettacolo di un territorio bello e ferito. Paisaggi mozzafiato, Borghi Castelli. Vedete la carovana rosa che attraversa proprio la zona di Campo Imperatore. E poi l'articolo di spalla del lunedì, ricostruzione, stanziati 25 milioni per le chiese. A Pescara riapre il cantiere sulla riviera. E poi in basso Teramo Rampelli lancia la corsa di Morra, candidato sindaco, alle prossime elezioni. E oggi, tornando al Giro d'Italia, giornata di riposo, ci sarà l'omaggio alle vittime di Rigopiano. Vediamo in alto altri titoli che riguardano lo sport in questo caso. A Chieti, questa mattina, il giorno del premio Prisco, con le star che arriveranno da tutta Italia. Sarà presente anche il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. E poi il calcio di Serie B, Pescara, il rebus delle possibilità per la salvezza contro il Venezia. Infine, la Serie D, come dicevamo anche prima, impresa Pineto con l'Avezzano. L'Aquila dà l'addio ai play-off, ma per l'Aquila è in atto una partita molto più importante che riguarda il futuro societario. Siamo all'edicola nazionale, partiamo dal Corriere della Sera. Politica in primo piano su tutti i quotidiani. Lega e 5 Stelle siamo pronti. Oggi Salvini e Di Maio salgono al Quirinale, ma si tratta ancora sul Premier. E poi lo sport, vedete più in basso, Settebello della Juventus, lo scudetto che fa storia. Andiamo avanti, siamo a Repubblica, stesso tenore di titoli. Movimento 5 Stelle e Lega caccia al Premier, divisi su Migranti e Sicurezza. Anche su Repubblica si festeggia con questa foto il titolo sottostante. Lo scudetto della Juventus, sette volte Juve, nel segno di Allegri e Buffon. Buffon che potrebbe, dovrebbe lasciare l'attività del calcio giocato a pendere, come si sol dire, le classiche scarpette al chiodo. Siamo al Fatto Quotidiano, Premier politico e Fantasma. Di Maio e Salvini mancano solo le virgole. E il capo del Governo, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. La prima pagina del messaggero nazionale, Governo, la Rosa di Di Maio e Salvini, telefonata dei due leader al Quirinale. Pronti per l'esecutivo, sarà un Premier politico. E poi vedete anche sul messaggero, Roma Juve 0 a 0, festa scudetto per Allegri e Compani. E poi scuola, mancano 2.400 dirigenti e rischio paralisi. Proseguiamo con Libero, solite balle, nulla di fatto, per il Governo bisogna ancora aspettare in vano. Dunque un po' diverso il titolo di Libero. Il piano di 5 Stelle e Lega per ora è una lista di buone intenzioni. Ci sono reddito di cittadinanza e flat tax, ma non i soldi per realizzarli. Vedete poi più in basso, gli scettici, a Grillo Di Maio leader piace sempre meno. Salvini con il Movimento 5 Stelle, Rischia e Maroni lo sconsiglia. Il mattino di Napoli, ora basta. Si parla della gara di ieri del Napoli a Genova con la Sampdoria. Cori razzisti degli ultrasampdoriani contro il Napoli. Partita sospesa, insulti dalla curva al Presidente Ferrero che chiedeva di fermarsi. E dunque un'altra giornata da questo punto di vista non proprio edificante per il calcio italiano. Siamo alla politica, Movimento 5 Stelle e Lega, il giorno del Premier Di Maio Salvini. Oggi da Mattarella con una rosa di nomi. Sarà un politico. Il sole 24 ore, privacy, appello online per i custodi dei dati. Scatta la procedura, ecco le istruzioni del garante. A dieci giorni dall'entrata in vigore della riforma, via alla comunicazione dei nuovi DPO. E poi vedete più in basso una notizia che riguarda le pensioni. Fornero addio, l'ostacolo spesa. Nel cantiere del nuovo governo le ipotesi sul superamento della riforma previdenziale. Movimento 5 Stelle e Lega puntano sulle pensioni all'uscita con tre anni di anticipo. Andiamo a vedere anche il giornale. Povero Salvini, il Premier lo decide Mattarella. Lega e Grilini siglano il contratto e oggi svelano il nome per Palazzo Chigi. Ma il Quirinale ha già pronto un jolly. Vedete anche sul giornale. Sette meraviglie bianconere per la Juve. È già festa scudetto. La stampa di Torino. Politica in primo piano anche in questo caso. Lega e Movimento 5 Stelle ad un passo dal governo. Mai giallo sul nome del Premier. Ovviamente la stampa quotidiano torinese dedica ampissimo spazio al Juventus. Uno scudetto moltiplicato per sette. È la Juve più forte di sempre. Ora bisognerà capire se Allegri resterà sulla panchina bianconera oppure no. Il Tempo di Roma, Lega e Movimento 5 Stelle conto da 200 miliardi. Vedete il titolo in primo piano. E poi a Roma, albero di 12 metri, crolla sul bus, tragedia sfiorata. Rom, degrado, abusivi. La città eterna è al collasso, scrive il Tempo. E poi il secolo d'Italia. Siamo pronti. Vedete in primo piano Luigi Di Maio perché è ormai raggiunto l'accordo per la formazione di un nuovo governo. Oggi due leader, Di Maio e Salvini, riferiranno al Presidente della Repubblica. Il secolo XIX, patto Lega-Movimento 5 Stelle. Oggi il Premier, ultima trattativa nella notte per Palazzo Chigi. Si pensa al Rettore Vago. In alto, poi ritroviamo come sul mattino questa notizia che riguarda la gara di ieri Samp-K.O. con il Napoli. Un caso, i cori razzisti. Ferrero zittisce le urla dei tifosi. Il secolo XIX era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame. Possiamo tornare al centro. Il raduno, l'evento a guardia greere, l'abbraccio dei marinai all'Abruzzo. Parata di 25 gruppi, anni nel centenario della morte di Andrea Bafile. Bocca di Valle, l'incontro tra i pronipoti delle medaglie d'oro. Poi vedete più in basso, il sacrificio dell'eroe, la Brigata Maiella. Battaglie per la libertà. Andiamo avanti. Ci sono le pagine che riguardano ancora la cronaca della nostra regione. Siamo a Pescara, in Abruzzo in questo caso, perché questa è una notizia che riguarda tutto l'Abruzzo. La richiesta di aiuto di 500 vigili precari, incendi, dispersi e calamità naturali sono sempre pronti a intervenire, ma lo Stato li ripaga con 700 euro all'anno. Sono i vigili del fuoco precari. Limiti di età e graduatori e requisiti per essere presi. E poi, invece per quanto riguarda un altro argomento, la banda larga in Abruzzo, la regione accelera sui grandi appalti in basso a Pescara. La diga tagliata salva il porto dalla sabbia. Vedete questa foto sulla diga foranea di Pescara. Possiamo saltare le pagine di cronaca nazionale che abbiamo già visto poco fa con i titoli dei principali quotidiani. Siamo alla pagina d'Abruzzo del centro, dove si parla del raduno nazionale degli alpini di ieri a Trento, dove l'Abruzzo ha stupito la città trentina. In 1700 alpini abruzzesi sfilano davanti al Presidente Mattarella, che fa i complimenti alla nostra regione. Siete interminabili, ha detto il Presidente della Repubblica. Vedete il passaggio degli alpini abruzzesi con lo stricione dell'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, sezione Abruzzi, che ha sfilato a Trento. Siamo alle cronache dalle province. Ripartiamo da Pescara. Tasse locali, domani scade il condono. Ultimi due giorni per accedere alla sanatoria. I contribuenti interessati sono 31.500, ma finora sono arrivate solo 80 domande. Imposta sui rifiuti, 250 avvisi agli evasori. Il Comune scopre i contribuenti che hanno messo, sbagliato, la dichiarazione della Tari e della Tares. Piazza Salotto, nuove opere, marcia a piedi per renderla più bella. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, annuncia l'avvio di un progetto di riqualificazione, un altro capolavoro di Toyoito, dove prima c'era il calice. E poi circolazione in città. Rivera oggi chiude un altro tratto. Stop alle auto da Via Cavour a Via Ragazzi del 99 per terminare i lavori già avviati. E a Via Davalos, nella zona dello stadio, stop al traffico dalla Pineta a Via Elettra. Ci spostiamo a Montesilvano, tragedia sulla spiaggia, fa il primo bagno in mare e muore. Vittima un'ottantenne, inutili soccorsi del 118. Di Santo, della società Salvamento, dice mai fare il bagno da soli. E poi, ancora a Montesilvano, si oppone al sequestro di borse taroccate. Ambulante, denunciato dal municipale. E sempre nella cittadina adriatica, trovato senza vita in casa, imprenditore. Di 58 anni. Proseguiamo. Siamo ancora a Montesilvano. Si parla dell'emergenza in Via Rimini. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, dal prefetto, dopo l'aggressione di una donna per le accuse ai Rom su Facebook, il sindaco preannuncia una risposta dura. Le istituzioni saranno inflessibili. Da Montesilvano ci spostiamo a Francavilla al Mare. Aperte le iscrizioni all'asilo. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio. Ci spostiamo nell'area Vestina a Penne, perché in 2000 hanno partecipato alla Notte Rosa. Strade affollate ieri sera per la manifestazione che precede la tappa del Giro. Come dicevamo prima, domani il Giro d'Italia ripartirà proprio con una nuova tappa da Penne. In basso, ripulita la foce del fiume Salino. Saline, scusate, Montesilvano, cittadini e volontari hanno raccolto quintali di rifiuti abbandonati. Vedete nella foto i sacchi con i rifiuti raccolti dai volontari. Ci spostiamo a Chieti. L'affare droga a Chietiscalo. Coca per la Movida. Si indaga su 50 clienti. L'inchiesta sullo spaccio nei locali. La mobile, palza al setaccio. Due liste con nomi e numeri trovate nei pub di Muzio. Oggi ci sono gli interrogatori. E poi spostiamoci in provincia. Frontale sulla superstrada. Feriti due giovani. Schianto sul ponte a Farra Fogliolo Unpetri. Il giovane di Guardia Greve è ricoverato all'ospedale di Chieti. E' sempre a Chieti. Grande successo per Malta Attack. Fiume di gente nella città teatina. Vedete le piazze piene per questa manifestazione. E a proposito, abbiamo visto prima la pulizia del fiume Saline a Montesilvano. La stessa cosa è accaduta ieri in provincia di Chieti al mare per ripulire la spiaggia dei rifiuti. Giornata di festa dedicata all'ambiente. Ad Ortona per ripulire i corsi d'acqua e soprattutto in questo caso le spiagge. Siamo a Teramo. Siamo a Teramo per parlare di cronaca. In questo caso in provincia di Teramo a Montorio Alvomano molesta una bimba pakistano arrestato. La piccola di 10 anni stava portando a spasso il cane. L'aggressore, un giovane di 25 anni. Che ha richiesto asilo politico. E a Pineto atti osceni davanti ad una donna. Interviene la polizia alla foce del Vomano. Denunciato un anziano. E domani a San Nicolò ci sarà l'ultimo saluto a Mirko Mazzagatti. L'ex giocatore del Teramo. Conositissimo in Abruzzo per aver allenato e guidato tante squadre della nostra regione. Scomparso nei giorni scorsi a 50 anni. I comuni al voto. I comuni al voto perché si avvicina il 10 giugno quando si andrà alle urne. Grande attesa soprattutto a Teramo dove ieri è venuto fuori l'orgoglio della destra per il suo Giandonato Morra alla presentazione della lista di Fratelli d'Italia. Il partito ha riventicato il fatto di aver espresso il candidato sindaco di Teramo perché Morra arriva proprio da Fratelli d'Italia. Vedete le foto con la presentazione di Morra. Più in basso Cavallari presenta la sua lista squadra di 32 belle persone ha detto Cavallari. E a Silvi Scordella si giova del sostegno di Salvini. Il leader leghista telefona durante la presentazione del candidato sindaco di Silvi. Siamo all'Aquila. Il caso di un cinghiale che ha creato seri danni ad un'auto. È finito in tribunale perché, vedete, paga la regione. L'ente è condannato a risarcire la conducente della macchina, urtata dall'animale a San Demetrio. Altri ricorsi in arrivo. Avezzano. Ubriaco si schianta contro la polizia. Feriti due agenti. Il conducente, un giovane di Trasacco, è stato denunciato. In basso siamo nell'area Peligna. La provinciale è riaperta dopo la protesta, ma si viaggia solo a 30 km orari. Caruso, presidente della provincia dell'Aquila, rassicura sulla soluzione rapida dei problemi. E siamo alla Corsa Rosa, al Giro d'Italia. Le immagini più belle. Vedete ieri quanto colore e quante immagini spettacolari con il Giro d'Italia nella nostra regione. Anche le foto con la ripresa della Corsa dall'alto. Facce da giro, Asinelli e Pecore Rosa. L'attesa a Calascio e Santo Stefano. Vedete per l'occasione tanti tifosi lungo il percorso di gara. E poi le pecore con dei manti rosa, proprio in onore del Giro d'Italia. Davvero una festa per lo sport. Ieri in Abruzzo per l'arrivo del Giro d'Italia. Prima di parlare però di sport in maniera ancora più concreta, andiamo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero. Si riparte anche qui dalla Corsa Rosa nella nostra regione. Simon Yates vola. Il Gran Sasso consacra il leader Maglia Rosa. Il britannico erede di Pantani piazza il guizzo decisivo nel finale. La tappa è stata molto seguita. Qui ho visto posti incantevoli, ha detto il vincitore della tappa. E poi vedete in basso, Papaveri, Borghi e Rocca Calascio. La TV inquadra una terra bellissima. Ciccone e Fonsi, meravigliosa la spinta dei fan. Gli unici due ciclisti abruzzesi che partecipano al Giro d'Italia. Hanno provato a loro modo a lasciare il segno proprio nella loro terra. Buon decimo posto per il Chietino Ciccone. Ci ho provato fino allo stremo. Anche i vecchi compagni di scuola incoraggiano il corridore pescarese. Un tribudio per oltre 3.000 persone. Pantani e di Gran Sasso, nell'Olimpo. Tantissime persone anche all'arrivo a campo imperatore. E poi vedete l'Abruzzo Rosa. Un gran successo. Ora si riparta da qui, lo dice l'organizzatore della tappa, Maurizio Formichetti. E poi lo storico corridore, testimonia del Giro d'Italia, Vittorio Adorni. Che spettacolo qui sul massiccio. Mai avuto il piacere di arrivarci. E poi Garibaldi arriva da Barrea, il tifoso più affezionato. 77 anni, non mi perdo un'edizione. Paura per un caso di malore lungo i valloni. E come dicevamo prima, oggi è il giorno di Rigopiano, i parenti ci saremo senza festa. Scatta il piano di sicurezza della Questura sotto controllo il quartiere generale di Montesilvano. Ma come detto, oggi ci sarà il ricordo in una cerimonia privata da parte della RCS, degli organizzatori del Giro d'Italia, della tragedia di Rigopiano. Ci sarà questa cerimonia proprio dinanzi, quel che resta, dell'albergo travolto dalla Valanga. Siamo alla cronaca di Pescara. Riviera, dieci giorni per il nuovo asfalto ed un futuro pedonale. Parte oggi lo sprint per completare i lavori. Occhio a divieti e chiusure. Riaperta via Monti di Campi. Rotatoria da finire. E poi Montesilvano, ex pallavolista, si uccide a causa dei troppi debiti. E poi la tragedia che arriva sempre da Montesilvano. Anziana si tuffa in mare e muore per un malore. Andiamo avanti. L'Aquila, progetto case, caos bollette, verrà richiesto un acconto. Da febbraio 2017, pagamenti bloccati. Costituita una task force intersettoriale. L'ex sindaco Massimo Cialente attacca. Numerosi cittadini, dice Cialente, sono preoccupati. Avezzano, ubriaco in veste con l'auto. Due agenti della polizia è stato denunciato. E poi sanità. Infermieri, l'ordine denuncia carenze di organico nella giornata internazionale dell'infermiere. Andiamo più in basso. Episodio di bullismo a scuola. Severa condanna. Ecco le motivazioni. Prado alla Peligna, festa della Madonna Libera, Far West, in un bar. Siamo alla pagina di Chieti, del messaggero. Malta Attac, maxifesta in centro, ballano in 10.000 tutta la notte. E poi l'avvertenza Pilkington a San Salvo. E suberi alla Pilkington. Interrogazione della Lega. Andiamo in basso. A Chieti, coca nei locali, nell'indagine 50 clienti e 7 telefonini. E poi Lanciano, Villa Martelli, ripulita, discarica, con in testa il sindaco Pupillo. Siamo a Teramo. Morra, Riva Rampelli per il battesimo della sua lista. Il capogruppo della Camera in città per la presentazione di Fratelli d'Italio. In campo, Bella Teramo, di Cavallari. Non ci saranno fratture, dice con il PD. Cronaca Montorio, palpeggia bambina, preso richiedente asilo. E poi Giulianova, tentativo d'incendio alla casetta degli anziani. Ancora Giulianova, spiaggiato sull'Arenile. Tocca alla Regione. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Ma dobbiamo fermarci per qualche attimo. Poi torneremo in studio tra pochissimo. E apriremo l'ampissima pagina di sport. Parlando di calcio, di ciclismo con il Giro d'Italia nella nostra Regione. Di basket e tanto altro. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Siamo allo sport. Apriamo con i primi titoli, le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Bellissimi, vedete con il corredo del tricolore, il titolo della Gazzetta dello Sport. L'abbraccio festoso al 91esimo di Roma. Juventus con il pareggio e lo scudetto vinto il settimo consecutivo. Dalla formazione di Massimiliano Allegri, che vedete in primo piano nell'abbraccio con Buffon. Zenga tiene in pista l'Inter con la Lazio e spareggio. Milan in Europa, Atalanta quasi. Gigio, Papera e Strappo oltre. I rossoneri raggiunti nel finale a Bergamo. I tifosi rifiutano la maglia di Donnarumma. Andiamo a vedere dunque i risultati della trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. Sabato i due anticipi con la vittoria del Benevento per 1-0 sul Genoa. e la sconfitta a casalinga dell'Inter con Ile Sassuolo per 2-1. I risultati di ieri. Bologna-Chievo 1-2, Crotone-Lazio 2-2, Fiorentina-Cagliari 0-1, Torino-Spal 2-1, Verona-Odinese 0-1, Atalanta-Milan 1-1, Roma-Juventus 0-0, a Genova-Napoli-Sandoria 2-0, la classifica Juventus 92, campione d'Italia, Napoli 88, Roma 74, Lazio 72, Inter 69. Tra Lazio e Inter da assegnare l'ultimo posto per quanto riguarda la Champions League e nell'ultimo turno, nella prossima settimana, anzi nel prossimo fine settimana, ci sarà proprio la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Poi Milan 61 e un'Europa, poi Atalanta 60, Fiorentina 57, Sandoria 54, Torino 51, Sassuolo 43, Genoa 41, Bologna 39, Chievo-Odinese 37, Cagliari 36, da qui inizia la zona calda, inizia dal Chievo, Chievo-Odinese 37, Cagliari 36, poi Spal-Crotone 35, Verona 25, Benevento 21, Benevento e Verona matematicamente già retrocesse. Per il terzo ultimo posto che decreterà la terza retrocessione, ci sono, vedete, a pari punti Spal-Crotone, ma in questo momento la Spal è avvantaggiata dagli scontri diretti, poi Cagliari 36, Udinese e Chievo più tranquille con 37 punti. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport, 7 e Bello Juve, lo 0-0 con la Roma, Laura e Bianconeri per la settima volta consecutiva, campioni d'Italia. Siamo a tutto sport, bellissimo, Juve nella leggenda del calcio. Vedete la festa dei Bianconeri per la conquista dello Scudetto. Andiamo a vedere lo sport più in chiave regionale, anche se le prime pagine riguardano sempre il Giro d'Italia e il campionato di Serie A, Yates Show sui Monti Abruzzesi, Giro d'Italia, spettacolo a campo imperatore, la maglia rosa vola, Ciccone tra i protagonisti, ansia play-out, ora Pillone deve scuotere, il Pescara, la festa Scudetto, vedete sul centro, Juve 7 meraviglie per diventare il mito, basta lo 0-0 con la Roma per conquistare il 34esimo titolo, il Conte Max e l'orgoglio, ma la dittatura è logora e il tecnico della Juventus potrebbe anche lasciare. Vediamo qualche numero della Juventus, 34 gli Scudetti vinti, 5 i giocatori ad aver conquistato i 7 Scudetti di fila, sono Buffon, Barzagli, Chiellini, Marchisio e Licksteiner, poi 34 presenze in stagione per i Guain, 22 i gol realizzati da Di Bala, 23 quelli subiti in 37 gare, l'età media della squadra 29,1, 40 gli anni di Gigi Buffone, 23 i giocatori utilizzati in campionato da Allegri, 14 i giocatori della Juventus in gol, 151 le panchine in campionato di Massimiliano Allegri, nei quattro anni alla guida della Juventus. Zenga dall'ultima possibilità all'Inter, il crotore dell'ex Nerazzurro raggiunto dalla Lazio, ma un punto non basta, né ai calabresi per salvarsi, né a Inzaghi per la matematica certezza della Champions League, vedete poi i servizi, gli articoli sulle altre partite, abbiamo visto prima i risultati, e poi il Gran Premio di Spagna di Formula 1, doppietta Mercedes, Vettel solo quarto, Hamilton e Bottas dominano a Montmelò sul podio, anche Verstappen, la Ferrari perde terreno nel Mondiale, perché Vettel ha 78 punti e secondo primo in classifica, Lewis Hamilton con 95 punti, Mercedes prima anche nella classifica costruttoria. Ed ecco le pagine dedicate al Giro d'Italia, Yates è il re di campo imperatore, Ciccone un passo dall'impresa, la Maglia Rosa vince la tappa sul Gran Sasso, vestito a festa e con migliaia di tifosi in delirio, il Teatino a tre chilometri dall'arrivo, prova l'affondo, ma il britannico ha una marcia in più. Vediamo un'altra pagina del Giro, Gran Sasso selettivo, Yates stanco ma felice, punto a vincere il Giro. Vedete le immagini, le foto su questa giornata, Pantani e Scarponi, messaggi d'amore scritti su neve e lenzuoli, gli stricioni lungo i tornanti, rendono presenti i campioni abruzzesi, da Cesenatico a Palermo alla Colombia, il meticciato delle due ruote. Alex, nove anni, taglia il traguardo alla ruota di Moser, festa nella festa per gli amici della Bici Junior, di Santa Teresa di Spoltore, pedalate e applausi. Vedete le altre foto, poi lo stress test della funivia, lunghe code fino a sera, viabilità in tilt, ma era prevedibile per le migliaia di persone che hanno raggiunto campo imperatore. Volevo vincere, ma non mi hanno lasciato andare, il Teatino Ciccone amareggiato, speravo che i big mi concedessero il successo, ma non è andata così. E poi sotto, in basso, a Rosticini e Vino, spettacolo della Curva Fonsi, tanti tifosi del corridore pescarese della Wheeler mi hanno offerto una birra, ma ho detto di no. Dunque, protagonisti, comunque i due ciclisti abruzzesi, Ciccone e Fonsi, e poi la commemorazione, perché oggi, una giornata importante, c'è il giorno di riposo nel giro, ma c'è soprattutto il ricordo che ci sarà a Rigopiano, con questa tragedia che è sempre nella mente di tutti, le 29 vittime della valanga dell'hotel Rigopiano. E domani ripartirà il giro, si ripartirà da Penne, dunque ancora dalla nostra regione, ci si sposterà dalla parte opposta, dal versante pescarese del Gran Sasso, ma ovviamente si scenderà molto più a valle, perché saremo a Penne. Le lacrime di coda per il Pescara in ansia, chiudiamo il capitolo ciclismo, parliamo invece di calcio, del Pescara che si prepara agli ultimi 90 decisivi minuti di campionato, i Biancazzurri giocheranno venerdì alle 20.30 al Penso, nell'isola di Sant'Elena a Venezia, Pescara che dovrà obbligatoriamente conquistare almeno un punto per salvarsi, e dopo l'espulsione nella gara con l'Ascoli, il difensore coda è scoppiato a piangere nello spogliatoio. Venerdì, come detto, ci sarà la sfida decisiva a Venezia. Brugman nella top 11 del campionato, ma a Venezia non ci sarà per squalifica. Allora, vediamo le varie ipotesi e soprattutto con quali ipotesi il Pescara si salverà e dunque otterrà il diritto a giocare anche nella prossima stagione in Serie B. Il Pescara è salvo se vincerà a Venezia, se pareggerà in casa dei Lagunari, oppure se perdendo a Venezia due squadre tra Ascoli, Avellino e Novara non vinceranno. Il Pescara sarà salvo perdendo a Venezia, ma in questo caso l'Ascoli non dovrà battere il Brescia e il Cesena dovrà fare risultato con la Cremonese. Dunque tanti incroci, perché poi bisognerà tenere conto anche della classifica Vulsa. Il Pescara è in vantaggio con Novara e Avellino, ma in svantaggio con Ascoli, Brescia e Cesena. Il Cesena è in vantaggio con il Pescara, con l'Avellino e con il Brescia, ma in svantaggio con Ascoli e Novara. Poi vedete anche le altre squadre con i vantaggi e gli svantaggi negli scontri diretti, ma il Pescara non dovrà fare calcoli, dovrà pensare a far punti a Venezia perché se arriverà almeno un pareggio sarà salvezza senza se e senza ma. Intanto a Perugia vedete il nuovo tecnico e Alessandro Nesta è stato esonerato. Breda. Il Teramo in salvo, i nodi da sciogliere per non ripetere gli errori del passato. Diavolo ultimo senza le penalità di Vicenza e Sant'Arcangelo. Dal tecnico alla squadra passando per il LDS. Ecco i tanti rebus che la società bianco-rossa dovrà risolvere. Andiamo a vedere anche il messaggero come parla del Pescara. Pescara è il rebus della salvezza dopo il K.O. contro l'Ascoli. Ecco il quadro delle possibili ipotesi che abbiamo già analizzato. Brugman, addio senza festa per l'uomo mercato. Salterà Venezia per squalifica e sicuramente sarà l'uomo mercato per il Pescara. Per lui la cessione è cosa praticamente certa. E poi in basso vietato illudersi che le altre si accontentino. Quella con l'Ascoli è l'unica stecca di pillon. Ma adesso non bisogna precipitare nella paura. Teramo, Federico, restano. La piazza merita la Serie C. Si parla del futuro del Teramo dopo la salvezza conquistata grazie anche alla decisione arrivata nei giorni scorsi con la nuova penalizzazione di due punti del Sant'Arcangelo Teramo che ovviamente pensa probabilmente ad una rifondazione dopo la sofferenza di questa stagione. E noi siamo alla Serie D. Siamo alla Serie D per parlare delle due gare di ieri, delle due semifinali play-off con l'impresa del Pineto che è passato per 2-0 ad Avezzano e con la sconfitta dell'Aquila per 3-0 a Matelica al Dei Marsi vittoria dei Biancazzurri di Amaolo che gongola ora sotto con il Matelica vedete in presa del Pineto Avezzano che sfortuna in casa marsicana delusione il presidente Paris il giorno più amaro Gianpaolo l'umore è nero per questa sconfitta che non darà la possibilità l'Avezzano di giocarsi la finalissima dei play-off che giocherà il Matelica con il Pineto Matelica che ha battuto l'Aquila l'Aquila a Matelica finisce l'avventura rosso-blu sconfitti per 3-0 andiamo a vedere anche il centro partiamo ripartiamo dal derby di semifinale di ieri Avezzano al palo Pineto in finale per i Marsicani 5 legni ed un rigore fallito i Biancazzuri vincono 2-0 e trovano il Matelica allora dopo aver letto tanti titoli su questa partita possiamo andare a vedere il servizio proprio di questa vittoria del Pineto al Dei Marsi il servizio curato da Jacopo Forcello in finale ci va il Pineto che ribalta i pronostici della vigilia il posizionamento in campionato vince il derby elimina l'Avezzano e andrà adesso a Matelica a giocarsi la finale domenica prossima un risultato importantissimo per i Biancazzurri nella cornice splendida di un Dei Marsi soleggiato e col pubblico delle grandi occasioni l'Avezzano senza persi a conferma Bisegna con Biangiardi in mezzo e il capocannoniere Dos Santos punta centrale con Cerone Teramo e Pellecchia le sue spalle 4-3 invece per Amaolo con Gragnoli e Cercelluti Scudieri di Tomassini al 4-3 con cui comincia la gara il tecnico marchigiano nemmeno un minuto e proprio Tomassini potrebbe indirizzare la partita sui binari pinettesi l'appoggio di Lombardo prende in controtempo menna la punta bianca azzurra si ritrova solo contro Lombardi ma spedisce incredibilmente al lato il Mancino il Pineto approccia la grande il match conscio di doverlo vincere per passare il turno e al nono capitalizza la supremazia iniziale con Gragnoli duro fatica a reagire menna sbroglia al dodicesimo sull'ennesima iniziativa da destra stavolta di Marianeschi l'avvio è un monologo al quarto d'ora è ancora Marianeschi a perdersi una punizione dal limite che Pezzotti calcia la grande impegnando Lombardi la parata plastica in calcio d'angolo alla squadra di Giampaolo servirebbe una fiammata per rimettersi in carreggiata e ci pensa Pellecchia al diciannovesimo a portare scompiglio nella retroguardia pinetese Gragnoli-Stello-Besano in produzione offensiva e poi Ragatti a corda rigore a Navizzano dagli 11 metri va lo specialista Federico Cerone che tuttavia chiude troppo il sinistro e spedisce all'altra la conclusione ma l'opportunità fallita paradossalmente sveglie i padroni di casa al ventunesimo il tiro cross di Pelecchia colpisce la traversa sugli sviluppi Bianciardi ci prova dal limite impegnando Giacchetta alla risposta niente affatto facile al ventiseisimo un altro legno per il bianco-verde di Giampaolo Bisegna disegna col mancino da piazzato Giacchetta si allunga non può arrivare sulla traiettoria del numero 8 rispedita in campo dal montante il Pineto dopo l'avvio super per allentare la pressione di casa torna la carica intorno alla mezz'ora con la sventola di Zane disinnescata da Lombardi l'Avezzano però preme in maniera insistente non è per nulla fortunato al 32esimo la girata di Dos Santos all'interno dell'area di rigore sporca e trova la base del palo la Giacchetta abbattuto portiere del Pineto che tira un sospirone anche al 36esimo quando Cerone prova a farsi perdonare il rigore fallito con un missile mancino incrocio dei pali quarto legno in poco più di mezz'ora per l'Avezzano la ripresa ha più o meno lo stesso Canovaccio Cerone al cinquantesimo una buona opportunità da piazzato dal limite anche stavolta il palo a dire di no al numero 10 Biancoverde con Pezzotti che chiude su Bianciardi che si era avventato sul pallone Amalo inserisce Fiumara e tatticamente questo non fa altro che permettere al Pineto di difendersi con 5 uomini costringendo il neopinto a destra e Pezzotti sul fronte opposto a coprire tanti metri di campo il tecnico pinetese richiama anche Marianeschi per esposito mentre Giampalo rinforza la prima linea con Acatullo per Besana il secondo tempo è una partita a scacchi dalla panchina nel Pineto entra Farias per Gragnoli le scelte del tecnico pinetese sembrano dare frutti migliori perché la spinta a Marsicana rimane solo nelle intenzioni entra Mariani per Tomassini Farias al trentottesimo e la punizione di Pezzotti al quarantesimo dimostrano che gli ospiti non solo non soffrono più ma riescono anche a proporsi con discreta facilità dalle parti di Lombardi trovando con Di Rocco al novantatresimo il gol del sigillo finale l'ultimo atto dunque sarà Materica Pineto per stabilire chi si aggiudicherà la finalissima alla Vezzano rimane l'amarezza allenita solo un po' dall'applauso del De Marsi per la formazione di Amaolo l'ennesima rivincita contro chi aveva dato il Pineto finito già un paio di mesi fa la rivincita del Pineto la rivincita di Amaolo che era stato anche messo in discussione la rivincita di questa squadra che è arrivata in finale Amaolo grande partita Gian Paolo che sfortuna queste le dichiarazioni dei due tecnici al novantunesimo intanto in casa Marsicana il presidente Paris non si arrende voglio la Serie C più avanti decideremo le mosse ma ora è grande ovviamente la delusione delusa anche l'Aquila ma che pensa soprattutto al futuro l'Aquila che dovrà pensare a salvare la categoria non c'è molto tempo una partita più importante di quella giocata ieri a Matelica si sta giocando da diversi giorni per dare un futuro alla formazione Rosso-Blu l'Aquila è combattiva ma in finale va il Matelica questo è il titolo Rosso-Blu eliminati 3-0 il risultato finale in favore dei marchigiani Battistini il tecnico dell'Aquila al novantunesimo dice fatto il possibile il futuro è un'incognita e dunque andiamo a vedere i riflessi filmati quello che è successo ieri nell'impianto di Matelica con la vittoria della formazione di casa sull'Aquila per 3-0 applausi nonostante tutto all'Aquila che perde 3-0 con il Matelica nella semifinale playoff ma esce a testa altissima dal campionato dopo una stagione contrassegnata da avversità e problemi a cui Battistini e i suoi ragazzi hanno fatto fronte con una professionalità esemplare ma la partita più importante è quella che si sta giocando da tempo fuori dal campo per regalare un futuro al calcio rosso-blu il rischio che l'Aquila il prossimo anno non si iscriva al campionato di serie D e concreto non sono infatti arrivate al momento offerte per rilevare la società con una corsa contro il tempo che si esaurirà il 31 maggio al cospetto dei marchigiani dominatori del torneo per buona parte della stagione i rosso-blu hanno come sempre gettato il cuore oltre all'ostacolo alzando bandiera bianca poi al cospetto di una squadra più concreta e forse concentrata i padroni di casa privi del bomber Magrassi squalificato così come il tecnico Tiozzo in tribuna anche lui fermato dal giudice sportivo partono bene si inizia prima con un minuto di raccoglimento in memoria di Elio Giulivi ex presidente della Lega Nazionale di Lettanti scomparso venerdì scorso al quinto però Boldrini su punizione impegna Cherezovic che è costretto a salvarsi in angolo al nono ghiottissima l'opportunità che capita sui piedi di Lillo che in area davanti a Farroni spara incredibilmente sopra la traversa gara subito divertente avviso aperto con all'undicesimo ancora Lillo per i padroni di casa protagonista con la ribattuta questa volta della difesa ospite la squadra abruzzese non sta certo a guardare e al dodicesimo ancora Boldrini a sfiorare di pochissimo il bersaglio grosso pochi tatticismi fra le due squadre che attaccano anche se con il trascorrere dei minuti diventano più rare le occasioni da rete fino al quarantesimo quando è sposito a terra in area Angelilli con De Tommaso Di Rieti che va ad assegnare il rigore poi trasformato con freddezza da Gabbianelli a favore del Matelica che può così rientrare negli spogliatoi con il vantaggio di misura nella ripresa nell'Aquila c'è Busce per Di Paolo l'avvio di secondo tempo e dei locali che al resto al primo a fondo trovano il raddoppio grazie a Cuccato che su angolo di Gabbianelli in mischia fa 2 a 0 una mazzata vera e propria per i rosso-blu che sotto gli due reti hanno di fronte una montagna sempre più alta da scalare al dodicesimo De Iulis però in area marchigiana ha una buona opportunità ma la sua conclusione non inquadra allo specchio della porta Battistini manda in campo anche Ibe per Padovani al ventitresimo ci prova Boldrini il migliore dei suoi dal limite ma il tiro è centrale dopo una stagione dalle mille avversità l'Aquila sembra accusare il colpo a livello psicologico la testa di Farroni e compagni altrove la gara si scalda poi alla mezz'ora dopo un fallo su Caffiero costretto ad uscire di Malago che viene ammonito e poi espulso per proteste da De Tommaso di Rieti in inferiorità numerica ma in doppio vantaggio la squadra di casa cerca di far trascorrere i minuti trovando poi al cinquantunesimo e dunque in pieno recupero il gol delle 3-0 ancora su rigore per fallo del mio entrato Gagliardini per lui rosso diretto su da Pollonia dagli 11 metri non sbaglia Callegaro che supera Scolavino entrato al posto di Farroni e fa 3-0 tra una settimana sarà dunque finalissima play-off sempre a Materica tra la formazione di casa ed il Pineto di Amavo Ricordiamo il regolamento partita secca questa che riguarda la finalissima del Girona F di Serie D finalissima play-off in caso di parità al novantesimo ci saranno i tempi supplementari in caso dovesse permanere ancora la parità non ci saranno invece i calci di rigore e la vittoria dei play-off andrà alla squadra meglio classificata nella stagione regolare in questo caso il Matelica che ha chiuso il campionato al secondo posto vediamo quello che accade anche nelle altre squadre di Serie D soprattutto a San Nicolò perché il San Nicolò dovrà conquistare la salvezza domenica prossima nella gara anche questa secca con la Iesina si giocherà in casa della formazione Bianca-Azzura che si è piazzata meglio nella stagione regolare anche in questo caso non sono previsti i rigori in caso di parità dopo i supplementari a salvarsi sarà la squadra che si è meglio classificata ovvero la Iesina di Fabio Montani ancora da scegliere la sede del match che potrebbe essere però Pineto a vasto il presidente Bolami non si nasconde guarda al futuro e dice lavoriamo per crescere e poi a Francavilla il futuro potrebbe poggiarsi su Dercole e Rachini divorzio in vista da Marino e non resterà è quasi certo il tecnico il tecnico Pierluigi Iervese che ha guidato i giallorossi in questa stagione parliamo anche di un'altra squadra di serie D della matricola Giulianova Giulianova che vuole far bene anche nel campionato di serie D spunta per la panchina giallorossa Antonio Mecomonaco il tecnico teatino nella lista dei papabili con Di Fabio e Rachini mentre a Chieti e in questo caso siamo al torneo regionale di eccellenza il futuro è ancora un rebus vediamo cosa è accaduto nelle gare di playoff dei campionati minori in questo caso si parla di promozione Val di Sangro super grazie a Bucceroni la squadra di Bisci supera 3 a 2 il Casalbordino e domenica giocherà la sfida che mette in palio la promozione in eccellenza contro il Ponte Vomano vediamo qui un'altra pagina dedicata ai playoff di prima categoria e poi andiamo avanti per arrivare al basket al palacanestro maschile al Roseto che è ormai ad un passo dalla salvezza gli Sharks giocano gara 1 con Napoli con poca intensità e sono costretti ad inseguire i partenopei per metà partita ma la spuntano nel finale Roseto che ha battuto il cuore Napoli per 80 a 73 giovedì ci sarà gara 2 al pala barbuto di Napoli in caso di vittoria il Roseto sarà salvo il Napoli retrocederà al termine della gara coach di Paolo Antonio dice il bel gioco non mi interessa giovedì dovremo solo pensare a salvarci i campani si lamentano dell'arbitraggio vediamo anche il basket di serie B perché Teramo pensa alla prossima stagione cerca un coach esperto la società vuole riprovare a centrare i playoff atteso a giorni l'annuncio del nuovo allenatore a Giulianova il general manager sacripante si dice stanco posso solo dire che continuerò a curare le giovanili a Campli l'obiettivo è quello di rinforzare l'assetto societario un'altra squadra abruzzese di serie B l'amatori Pescara che conferma per la prossima stagione tutto lo staff tecnico a partire dal coach Stefano Raiola andiamo nella parte bassa della pagina a vedere quello che è accaduto nella sfida nei playoff di serie C Silver con il basto che ha superato per 82 a 78 la Magic Chieti ospiti Teatini in vantaggio per tre quarti di gara poi si disuniscono serie dunque che è ora sull'1 a 1 si tornerà domani nuovamente in campo e dunque resta aperto il discorso tra Vastesi e Teatini per la promozione e poi in serie D le semifinali sono Chieti Antoniana e Azzurra Robur andiamo ancora avanti per parlare di Podismo stracittadina di Avezzano adugna come da pronostico al secondo giro era già da solo il portacolori della Runners si aggiudica alla 10 km solo Visci tiene il passo in 300 alla sfida in ricordo del piccolo Pietro e di De Angelis uno degli organizzatori dal Podismo all'Atletica selezione regionale prime gare indicative per il trofeo Fidenza e in basso tornando al Podismo vedete nella foto Antonio Bucci è stato il trionfatore a Casali in Contrada della seconda edizione della Casali in Corsa gara organizzata dalla Wisp Abruzzo e Molise sul podio anche Trulli tra le donne ok per la Di Prinzio per la Ceto e per la Spadaccini vediamo un'altra pagina di sport dal centro dal Podismo passiamo al rugby il rugby Aquilano resta in Serie A ma deve definire il suo futuro va avanti il progetto Gran Sasso Polisportiva Vecchie Fiamme Nero Verde non si sa con una o due squadre il sogno è di portare qualche big abruzzese in Serie B Paganica ed Avezzano chiudono la stagione con due sconfitte dunque come vediamo da questo titolo che riguarda il rugby l'Aquila bisogna definire bene il futuro perché è chiaro che l'obiettivo è quello di ritornare nel campionato Elite dove l'Aquila ha militato per tante stagioni dal rugby alla palla a volo Altino non molla mai Macerata va a KO parliamo di serie B1 femminile alle ragazze di Di Rocco il primo quarto di finale dei playoff Altino che ha battuto Macerata per 3 a 2 vediamo anche i set 25-22 17-25 25-23 26-28 e poi a proposito di volley il Pineto è super a manoppello Pratola fatica con il Montesilvano andiamo a vedere anche le ultime pagine di sport del messaggero soprattutto l'articolo che riguarda il premio Prisco perché quella di oggi è la giornata proprio dedicata al premio Giuseppe Prisco ci sarà la cerimonia di gala questa mattina a partire dalle 11 al Teatro Marruccino di Chieti saranno presenti il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò il presidente del Frosidone Calcio Stirpe è l'ex tecnico del Crotone ma anche ex giocatore del Pescara Nicola tra i premiati anche il giocatore della Sampdoria Quagliarella riconoscimenti importanti per queste personalità dello sport che si sono distinte in vari campi tra i premiati vi dicevo c'è anche Quagliarella ma il giocatore della formazione sampdoriana sarà assente per degli impegni e dunque non potrà ritirare il premio dovrebbe essere presente invece il presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò premio speciale per quanto riguarda il premio di giornalismo intitolato a Nando Martellini sarà consegnato alla giornalista del Corriere della Sera Gaia Piccardi una notizia che riguarda la palla a nuoto importante riguarda il Pescara che ha pareggiato a Roma e ha conquistato la salvezza una notizia positiva per la formazione maschile pescarese che dunque anche nella prossima stagione militerà nel campionato nazionale di Serie A2 di pallanuoto Roseto primo passo ritroviamo anche sul messaggero l'articolo la pagina che riguarda la vittoria di Roseto in gara 1 dei play-out salvezza i Sharks battono Napoli in casa per 80 a 73 prestazione però non convincente di Paolo Antonio e Casagrande alla fine dicono siamo però riusciti a centrare l'obiettivo e come detto giovedì si giocherà gara 2 a Napoli siamo al volley e poi al calcio a 5 prima di salutarci volley di Serie A2 Sieco Ortona rivoluzione campionato caccia agli italiani la prossima stagione torneo a 28 squadre ma con limitazione al tesseramento di extra comunitarie dunque strategie da rivedere e poi il calcio a 5 parliamo dell'acqua e sapone oggi ci sarà il primo round contro Rieti semifinale scudetto al pala Santa Filomena di Chieti con il tutto esaurito 500 gli spettatori presenti per incoraggiare la formazione del tecnico pers nella sfida con il quintetto Laziale siamo così giuti al termine dell'appuntamento di oggi del 14 maggio il primo della settimana con Mattino 6 che tornerà domani puntuale alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi come sempre per averci seguito vi rinnovo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione del nostro telegiornale vi ricordo questa sera alle 21 in diretta dei nostri studi ci sarà replay condotto da Enrico Rocchi per parlare del Pescara alla vigilia di questa settimana decisiva che porterà alla gara di venerdì prossimo a Venezia in cui la Pescara sarà chiamato a staccare il biglietto per la salvezza e dunque la permanenza nel campionato cadetto è davvero tutto buona giornata a Grazie a tutti Grazie a tutti